musica 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 file will file file Vai la cantina a cantina vai dai si pure ma non lo stai sprazzando, non chiamando la tavola hai schietto che va in cantina vai vai dai cannaruna dai cannaruna e dai cannaruna dai, non lo fanno piatti di macchina sotto fu i macchina non lo fanno aspetta che è pronto dai ma lo fanno ti mangi pure, che ti mangi apri gli occhi, apri gli occhi, apri gli occhi, che ti vedi gli occhi presto va bene, è pronto la pasta, va bene ma che non ti andrà la pasta, che se lo poterà messo a disgraziare no, 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 no va bene, gira gira, adesso va bene come ti ha mandato a mamma, tu mi puoi sposare la figlia porca che sei, porca come ti ha mandato a mamma, come ti ha mandato a mamma e io non ti faccio mangiare la pasta, vado a mamma ti ha mangiato te Typi iuggami allio Fans Tutti, dove, dove? Tutti, dove? Ok,zuf verstieg.. Tutti, on somma Tutti, on somma E ci non sono una, ma i atto ci non gamba, ci non sono una We come a balli bella, we come a balli bella, we come a balli bella Sola sola, me nali stambarella, me nali stambarella, me nali stambarella Sola sola, me nali stambarella, me nali stambarella, me nali stambarella Sola sola, me nali stambarella, 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 me n No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.